Ciao, sono Carlo, ho 60 anni e vivo a Cagliari, questa bellissima città della Sardegna, un'isola antica al centro del Mediterraneo. Oggi voglio raccontarvi la mia giornata. La mattina mi sveglio tranquillo, nonostante da qualche anno non sia più solo, ma ci sia lui. La mattina è proprio scatenato, mi blocca, mi limita i movimenti. Mi sento così rigido che ho difficoltà anche a girarmi nel letto per potermi alzare. E proprio per questo vi voglio raccontare le strategie che ho imparato per cercare di combatterlo. Ogni mattina arrivare al bagno per me è un'impresa. I miei piedi sembrano quasi incollati al pavimento e sento le gambe pesanti e come se qualcuno me le bloccasse. Quando mi guardo allo specchio mi approfitto per fare qualche esercizio per la mimica facciale. Così come mi hanno consigliato gli specialisti. A quest'ora mi vedo proprio gombo, come se avessi un peso sulla schiena. Beh, in effetti lo specchio serve anche a questo, a controllare la postura, così come si fa in palestra. Quindi faccio uno sforzo per raddrizzarmi, sguardo in alto, petto in fuori, spalle indietro, una bella stiracchiata e si parte. Scendo le scale per andare a fare colazione. Con un po' di attenzione ma in tutta serenità. Mi preparo una bella colazione perché ho bisogno di energie per affrontare una giornata ricca di impegni. Quando devo prendere qualcosa dalla parte alta della dispensa, faccio un po' di fatica in più, ma mi arrangio. Il Parkinson prova a disturbarmi, ma per fortuna arriva l'ora di prendere le medicine. Lui, finalmente, inizia a soppersi. E io, già comincio a sentirmi meglio. La levodopa sta iniziando a fare il suo effetto. Meglio dare una controllata agli impegni, che ormai per abitudine o per comodità scrivo su dei postiti. Ricordiamoci le chiavi e arrivederci, caro Parkinson. Primo appuntamento, la spesa. Avrò preso tutto? Fammi controllare lo scontrino. Fatta la spesa, mi rilasso con un po' di cruciverba, che mi divertono e tengono la mente allenata. Quando, come in questo caso, sono seduto molto in basso, ho difficoltà ad alzarmi. E questo è uno dei primi esercizi che faccio con i fisioterapisti. Dunque, mi siedo meglio. Ginocchia un po' larghe. I piedi dietro la linea delle ginocchia. Schiene in avanti. Mi do uno bello slancio e... Voilà! Sono in piedi. Le strade sono spesso una giungla. Lavori e deviazioni. E a volte mi capita di avere dei blocchi. Ma anche in questo caso, mi è utile pensare agli esercizi fatti in palestra. Infatti, mi hanno spiegato che pensare ai movimenti prima di farli, ne facilita la successiva esecuzione. Com'è che lo chiamano motor imagery? Quello che usano anche gli sportivi. E mica poco. Anche l'esercizio dello slalom tra gli ostacoli, mi aiuta molto per combattere il freezing. Quando devo cambiare direzione, devo pensare di sollevare bene le ginocchia. Perché a volte faccio l'errore di girare col busto, ma non con i piedi, che rimangono incollati a terra. E questo può farmi cadere. Quindi, penso a staccare bene i piedi dal pavimento, supero gli ostacoli e vado per la mia strada. Camminare è un ottimo allenamento per la resistenza. Cerco di farlo seguendo un ritmo costante, così come faccio in palestra sul tapirulano. E sulla spiaggia è anche più difficile. E questa è una sfida per me. E quando ci riesco, mi sembra quasi che il Parkinson non ci sia. Ho promesso al mio amico Pietro, vecchio compagno di squadra, che sarei andato a potargli la siepe. Sembra un lavoro da niente, ma stare inchinato, in quelle posizioni, beh, vi assicuro che è tanto faticoso. Certo, per la mia schiena non è la cosa ideale, ma sono lavori che mi piace fare. E vabbè che ho il Parkinson, ma questa carriola mi sembra che pesi una tonnellata. Dopo lavori del genere, trovo molto sollievo nell'eseguire la sequenza di esercizi per la postura appresi durante la fisioterapia. Già mettendomi sdraiato, sento che la mia colonna si allunga. Portare le ginocchia al petto tiene le anche mobili e stira la colonna lombare. Ruotare da una parte e dall'altra è utilissimo quando mi devo girare nel letto. Descrivere un cerchio con le braccia mobilizza le spalle e apre bene il torace. Sollevare le braccia sia dalla posizione a pancia in giù sia da quella a quattro zampe è faticoso, ma mi aiuta a stare più dritto quando sto in piedi. Portarle all'infuori seguendo la mano con lo sguardo favorisce la rotazione della colonna. Se poi in questa posizione allungo la gamba e il braccio in modo alternato faccio anche un lavoro di forza e di equilibrio. Per fare un lavoro globale con gli addominali e la colonna ho imparato addirittura a fare il plank. Con le ginocchia sul tappeto cambio il piede d'appoggio cercando di non perdere l'equilibrio e infine con uno bello slancio mi tiro su. Camminando per il parco ho incontrato questi paletti che sicuramente non serviranno per questo ma io li uso per esercitarmi nello slalom. Ve ne sono anche alti che ho trovato più impegnativi perché mettono in evidenza la mia difficoltà ad affrontare passaggi ristretti. Cadere mi fa tanta paura per questo mettendomi in sicurezza mi esercito per esempio a stare in equilibrio su un piede il più a lungo possibile perché come dice il mio amico Daniele barcollo ma non mollo. Con un po' di fantasia e creatività qualsiasi ambiente può diventare una palestra nonostante si possano incontrare elementi di disturbo. Ecco, questi tronchi per esempio fanno proprio al caso mio per esercitarmi a superare ostacoli sia frontali che laterali. per chi come me ha questa malattia è fondamentale sapersi rialzare soprattutto nei momenti più difficili della vita. Passare la palla sotto le ginocchia mentre si cammina mantenendo testa alta e schiena dritta è un ottimo esercizio. Oggi mi sento in forma voglio esagerare salgo e cammino sulla trave ce l'ha fatta. Per 40 anni ho svolto il lavoro di falegname una passione che in famiglia si tramanda da più generazioni. Ogni occasione è buona per andare in falegnameria ma soprattutto mi serve per tenere una buona abilità manuale. non so se sia la mia età o quella dei miei attrezzi ma ultimamente certi lavoretti mi sembrano un po' più impegnativi rispetto a un tempo. Prima che chiudano devo correre alle poste dove si sa quando si entra ma non si sa mai quando si esce. È una gioia vedere gli amici mi ricarica le batterie una o due volte alla settimana cerco di non mancare mai all'appuntamento con l'aperitivo e la partita a carte. Parkinson vorrebbe rinchiudermi in casa lui vorrebbe che io mi isolassi che mi nascondessi soprattutto quando sto più male ma io lo costringo a stare in mezzo alla gente. Giocare a carte è un ottimo esercizio per la memoria e l'attenzione. Lui cerca di distrarmi in tutti i modi e a volte purtroppo riuscendoci. Eh già l'attenzione per me è diventata fondamentale perché alcune cose che prima facevo in modo automatico ora invece le devo pensare volontariamente. Ma nonostante tutto e scusate la modestia sono ancora un gran giocatore e ho vinto anche questa volta. dopo una lunga giornata di impegni e attività fisica e incontri vari finalmente sono di nuovo a casa. Toh! Eccolo lì il Parkinson che mi aspetta. Ma come mai così arrabbiato? ah ecco ora ho capito ce l'ha con la limpa e le sue iniziative che lo combattono da tempo. Devo dire che queste sono molto interessanti e anche utili non solo per conoscere meglio la malattia ma anche le strategie e i trucchetti per cercare di combatterla. Con i loro consigli la casa può diventare la mia palestra. ad esempio voglio provare lo slalom tra le bottigliette anche se a quest'ora la dopamina comincia a scarseggiare e mi sento più pesante. Mi sa che provo qualche esercizio di equilibrio sul gradino. Certo che la sera non mi sento stabile come la mattina. Lui invece è instancabile ed è sempre pronto a farmi cadere ma non gliela voglio dare vinta e mi alleno lo stesso. Prima di rilassarmi un po' rinforzo le braccia con una sequenza di esercizi imparati in palestra col mio fisioterapista. Allargo faccio dei piegamenti con le bottigliette un po' verso l'alto tenendo sempre la schiena possibilmente dritta magari attaccata alla parete o a un mobile. faccio dei piegamenti con le gambe così rinforzo contemporaneamente braccia e gambe ancora qualche movimento per le spalle e poi anche qualche rotazione del busto sempre a braccia larghe e mantenendo i piedi fermi a terra. finalmente posso suonare il mio pianoforte in santa pace senza nessun disturbo coraggio riprendiamo mi rimangono da fare alcune faccende domestiche accipicchia quasi dimenticavo la pastiglia e manca poco alla cena devo sbrigarmi a mettere i panni in lavatrice che fatica mi sa che la dovrò mettere più in alto lavo due piatti e ormai mi sa che ho finito ah finalmente mi siedo a tavola ho aspettato il tempo giusto prima di mangiare in modo che la pastiglia venisse assorbita al meglio d'altronde è l'ultima della giornata oh no ancora cosa vuole vabbè in effetti con la pizza ci vuole una bella birra fresca oh Ma questo Parkinson è veramente egoista, ma purtroppo ci devo convivere. La mia giornata è giunta ormai al termine e a quest'ora la stanchezza la sento proprio tutta, anche perché lui è sempre con me. Lo so, caro Parkinson, che sei tanto affezionato a me che non vuoi lasciarmi. Ma io sono fiducioso che un giorno, forse non molto lontano, qualcuno come me si sveglierà la mattina. E non ti troverà più al suo fianco. Nel frattempo, caro mio, cerco di sopportarti come posso, perché ho imparato che la vita è bella e merita di essere vissuta nonostante te, che non riuscirai mai ad impedirmi di essere felice. Grazie. 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 Grazie.